Per la verità, più che di questioni tecniche, finora si è parlato di problemi di carattere economico e il tema ricorrente degli ingaggi. Quest'anno questo tema è stato attualizzato dalla clamorosa presa di posizione dei giocatori dell'Inter che hanno respinto in blocco le offerte della società e per la prima volta nella storia del calcio hanno fatto rinviare l'inizio della preparazione per il campionato. Il Milan potenzi il centrocampo con Romeo Benetti e Giorgio Biasiolo. Lei, Benetti, è un giocatore che va molto bene nelle squadre di provincia mentre ha un complesso per quanto riguarda le grosse squadre. Si riferisce evidentemente al fatto che nel Palermo, nella Sandoia, lei ha giocato molto bene e nella Juventus invece non altrettanto bene. Pensa quest'anno di sfondare. Ma qua io dico che è un giudizio soggettivo perché per uno può essere una grande squadra, il Milan e la Juve, per un altro può essere una piccola squadra. Per me dove ho giocato sono state tutte grandi squadre quindi ho giocato male per gli altri solamente a Torino e per me no. Futuro prossimo Frenel Bologna che alla tredicesima giornata perde uno dei suoi uomini migliori, il giovane Franco Liguori. Il centrocampista rosso-blu viene colpito duramente da Romeo Benetti che non sarà nemmeno ammonito. L'entrata del Milanista è da paura. Liguori esce in barella con un ginocchio a pezzi, per lui campionato finito, ma si teme per la sua carriera. Vorrei chiedere una cosa perché ho visto che poco fa è andato di là e avrebbe dovuto avere notizie fresche. L'incidente che è capitato a Liguori, ha avuto notizie? Che è un incidente grave, non grave? Purtroppo poco fa, come dice lei, abbiamo ricevuto la notizia da Bologna che è l'incidente a Liguori è molto più grave del previsto. Anzi, a questo punto noi tutti i suoi compagni vogliamo fare molti auguri perché il Bologna ha bisogno di lui e speriamo di averlo presto ancora tra di noi. E un'altra cosa che vorrei dire è che a un certo punto tra professionisti certi falli, certe manchevolezze, sarebbe meglio evitarle.